Buongiorno, sono Elena Fedeli, la direttrice della Residenza Principina. Anche quest'anno abbiamo partecipato alla Fiera del Lavoro organizzata dall'Ente Bilaterale del Turismo di Grosseto. È stata un'ottima esperienza, in una giornata siamo riusciti a selezionare molte persone, ho avuto l'occasione di incontrarle tante, ho già selezionato parecchie persone. Due di queste persone già stanno lavorando con noi, soprattutto nel reparto di camerieri ai piani. Altre persone sono state selezionate negli anni precedenti, sempre grazie all'Ente Bilaterale, e continuano a lavorare per noi. Quindi l'esperienza è stata estremamente positiva. Ringrazio tutte le persone che lavorano dietro a questo evento, perché per noi è veramente importante. Grazie.